ecco il parco già questo parco è stato già visto sul canale quindi se non l'avete ancora visto andate a recuperare il video a presto a presto allora ragazzi siamo quasi arrivati il supermercato si trova vicinissimo e quindi adesso ci abbiamo messo mezz'oretta ci sono vari supermercati tre ce ne sono dove ci andiamo di solito oggi andiamo nel primo e poi vi porterò negli altri video a presto a presto ragazzi volevo vedere una cosa se volete vedere qualcosa di particolare di savona scrivetemelo pure nei commenti e io vi ho avuto il video io ve lo farò vedere e anche chi me l'ha scritto verrà salutato ciao